All'azione politica, vedete la continuità è fondamentale in qualsiasi attività umana ma lo è soprattutto in politica. Chi fa politica sa che si assume la responsabilità di prendere delle decisioni per la Repubblica, quindi per i cittadini e quindi noi dobbiamo guardare al traguardo dell'8 di giugno e del 9 di giugno come la necessità di dare continuità a questa giunta che è ben lavorata. Devo dire che essere qua oggi in questo contesto mi dà conferma del fatto che questa giunta si è assunta degli impegni importanti, ha lavorato e è riuscita a mettere a terra delle cose, quindi adesso dobbiamo lavorare per garantire successo a questa giunta e per garantire altri 5 anni di buon governo. Stiamo lavorando sulle liste ma lo stiamo facendo con lo spirito con il quale abbiamo costituito la lista 5 anni fa e cioè cercare di mettere in gioco delle persone che dal punto di vista delle competenze, dal punto di vista delle capacità, dal punto di vista della consapevolezza, della responsabilità che ci si assume quando si svolge un ruolo pubblico sono persone che devono essere riconoscibili dei cittadini.